Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ho augurato la morte a mia moglie e che io possa avere i tumori Mica spero che ti muori adesso e che ti investono appena esci E se così succede spero che qualcuno me lo faccia sapere così sborro sopra la tua fottuto Ah la super non serve per fare danno Come serve per fare scusami la carica della super non fa danno? Eeeh Lei sai cosa c'ha bisogno? Dei fare un freestyle, ma ho la cappella Scusi un attimo L'ha mai fatto il freestyle? No, lei sa farlo il freestyle, mi faccia un freestyle Eeeh Non è semplice Allora serve tipo capito? Nella base musicale Tu pazzi Tu pazzi Tu pazzi Un cazzo di animale Stiamo facendo un duo E sesso anale Tu pazzi Tu pazzi Tu pazzi Ti prendo il culo Ti mando il c***o Tu pazzi Tu pazzi Tu pazzi Tutto pazzo io so fare un po di Mi salto addosso te lo dico What a good play bro Che play ci ha fatto questo qua raga Porca miseria Super raro intanto Bellissima figa senti chi parla Minca lo stecchino No Zeno sei un bastardo Oh Zeno AH原ino�binismo Quello stia sempre verde albero sempre. Ello, secondo me veramente ssguccia via Posto uno scoiatolo, porca troia, uno scoiatolo potrei replicare la scena di Peter dentro il ristorante Sushi quando va a picchiarsi con il pollo dentro il ristorante attenzione al salto numero 1 poi prendiamo il tubo per il numero 2 sono sopra e sono sopra il 2 adesso vado sulla statua numero 3 e poi il pezzo difficile lo vedi questo? senza placement ma solo punti per kill io lo sto prendendo come allenamento sinceramente ha senso per quando venerdì e domenica dobbiamo giocare alle cash cap ha molto più senso ha molto più senso giocare come se fosse una cash cap minchia Franci ci so si si Gisnetone 1v2 1v1 v1 se uno vio lo vince questo back to back bravo Vincenzo mamma mia te vi carri ho tutti stamattina Dio porca miseria Dio porca miseria Dio porca miseria mentality mentality ragazzoni ragazzoni quando vedo queste cose mi viene il nervoso eh questa cosa non ci credo che cosa posso chiedere come mai la sua mappa non è sul suo account o quello di Reckings perché non l'abbiamo sviluppata noi cosa? più che altro come fai a vedere sta cosa? in che senso? ti ho detto prima ma nel senso non possiamo essere noi gli sviluppatori raga sì invece no noi siamo no noi siamo i promoter eh ok però poteva farla con il suo account sì ma noi abbiamo fatto una cosa più grande dietro c'è non è non c'è non c'è solo questa mappa ok mi fai la mappa ciao no no non funziona così ok quindi c'è una libertà di fare un sacco di cose poi assolutamente con il vostro consenso esatto ok ok allora ci sto chi ci ha fatto la mappa? dagli sviluppatori di fama ormai mondiale italiani bravo vincenzo pensavo si fosse boxato sì ma che cazzo di loser fai idiota che se ti in due ci avete messo tre safe per ammazzarlo fallito del cazzo il loser lo faceva quel coglione del cilocono con quella puttana di tua madre fai loser sto coglione 20 minuti a cercare vincenzo fa loser ma vai a cazzo cazzo un momento ragazzi orca merda quanto fa male cristo di dio cristo di dio raga mamma mia raga mamma mia raga banana cin cin banana cin cin banana orco cane orco cane orco cane orco cane orco cane orco non vedo non vedo non vedo canne orco canne orco 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 banana cin cin banana cin cin banana cin cin banana cin cin eh si ti è preso da esta bombata bro merda bronzo 5% raga eh siamo in 5 no raga non dovete vedere il mio ping il mio ping fa cagare è morto Atex is offline merda però è ancora vivo, attenzione quante squadre sono? è una sola mi dica, mi dica io ci sto provando vorrei dannatamente quelle mille patate per metterle sulla barra per fare il GPL del furgone la skin più rara che ho è la double ilix che è la skin più rara in assoluto di Fortnite mentality lo vado a prendere oggi Fibia troppo a singolo, mitragli a tre colpi, cecchino, cure e moving a scelta lo scatolone è bello faccio le ranga con lei che cazzo di stronzata è? niente, Floki non risponde ma chi è questo dio Rostoi qua? non ne ho idea cioè questo è il casino che servono per le rank merda, però è bello provisco sempre Dynamite